bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi abbiamo un sacco di novità di cui parlare per quanto riguarda il futuro di fortnite e le meccaniche di gioco sì ragazzi perché vedremo tanti spezzoni video su quello che sarà la nuova mappa e i nuovi concept che diverranno realtà ma parleremo anche di aquaman black manta e tanta roba interessante prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi anzi prima volevo chiedervi scusa non riesco ancora ad accedere a instagram quindi siamo bloccati speriamo che oggi riesco a riattivare il numero ma volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente in questo video interessantissimo di oggi perché per chi non lo sapesse si sta svolgendo l'unreal engine fest mi spiego ovviamente non si sta svolgendo con un raggruppamento di persone per i noti problemi che tutti sappiamo ma si sta svolgendo online che cos'è la real engine fest è il festival del motore grafico che si basa su cui si basa fortnite e tanti altri giochi quindi direttamente dal team di sviluppo di ep games arrivano delle notizie in anteprima degli easter egg dei piccoli spoiler su quello che hanno intenzione di fare per migliorare la parte grafica e realistica del gioco o meglio come vorrebbero farla diventare innanzitutto abbiamo anche una tabella che ci spiega quando usciranno più o meno i nuovi motori grafici quindi nuovi a real engine a maggio del 2020 uscito il 4.6 tra maggio e ottobre del 2020 arriveranno le ultime versioni prima di vedere la real engine 5.0 che invece come c'è scritto sarà proprio nei primi del 2021 e se pensiamo che già la real engine adesso è tanta tanta roba figuriamoci il 5.0 quello su cui si basano ovviamente gli sviluppatori è la modifica di tanti fattori che magari sono piccoli per noi che siamo più concentrati a fightare come delle macchine ma che in realtà garantiscono una qualità di gioco superiore e soprattutto una bellezza generale di quello che vediamo mi spiego un pochettino meglio intanto sappiamo che sarà ovviamente anche sviluppato poi per entrambe le console più importanti quindi la ps5 e l'xbox serie x non è menzionata purtroppo la nintendo si parte ragazzi dal cielo dall'acqua dagli effetti in generale voglio già farvi vedere qualcosina per farvi capire di cosa sto parlando ragazzi questo sembra un mare vero ma non è così questo è uno dei mari che potremmo vedere su fortnite uno degli effetti grafici sulle onde che si sta cercando di sviluppare come vedete c'è proprio un movimento che è realistico è uguale a quello che siamo abituati noi a vedere direttamente al mare quando andiamo ovviamente ma per farvi capire meglio quello che state vedendo in questa immagine è proprio l'interazione del personaggio e dei colpi e dei veicoli con l'acqua guardate un po questo video che è davvero molto esplicativo come vedete ragazzi lei ci sta dicendo anzitutto c'è scritto fluid simulation built in water simulation quindi verrà costruito proprio un sistema di simulazione dell'acqua karatex vehicles weapons interact with water quindi se noi ad esempio spariamo sull'acqua beh i colpi vengono proprio mostrati adesso se voi ci fate caso quando sparate nell'acqua non sappiamo in realtà correttamente dove vanno i proiettili immaginate di dover sparare magari a un avversario che sta nuotando beh capire esattamente dove va il colpo è molto utile per azzeccare un pochettino la mira e correggerla ma la cosa interessante è anche proprio l'onda la scia che rilascia il personaggio quando entra nell'acqua come state vedendo crea un sacco di onde e una piccola schiuma intorno a sé per rendere ancora più realistico il movimento movimento che in realtà si vede molto meglio quando utilizziamo un veicolo perché si crea una vera e propria scia enorme che appunto richiama quello che succede realmente quando magari vediamo dei motoscafi nei laghi nei mari insomma su uno specchio d'acqua è davvero bellissimo anche vedere come le onde si infrangono sulla spiaggia e in questo spezzone invece in questa parte di video ci fa vedere come la parte verde è proprio il personaggio che si muove nella scia dell'acqua mentre la parte rossa è proprio la allargarsi del fenomeno appunto di passaggio di un oggetto sullo specchio d'acqua sono cose un po più tecniche che però sono davvero davvero interessanti e ce n'è un'altra di cosa forse non lo sapete ma sono sviluppati da tanto addirittura dal capitolo 1 perché è stato ritrovato questo spezzone che ci mostra un ex putrido pantano scusatemi volevo dire la precedente season volevo dire non il capitolo 1 ovviamente un ex putrido pantano che appunto stava già in procinto di sviluppo per quanto riguarda le scie delle barche molto bello l'effetto che vedremo adesso invece sul succo slurpi immaginatevelo se avessimo potuto giocarlo in quei in quei mesi era davvero tanta tanta roba un'altra cosa invece di cui vi stavo parlando e che si è parlato del nella real festival è anche i clover clothes l'atmosferic clothes quindi il tempo atmosferico da tanto si vociferava che volessero inserire proprio dei veri agenti atmosferici immaginate la pioggia su fortnite oppure una tempesta che potrebbe appunto migliorare l'esperienza di gioco oppure renderla più difficoltosa per tutti qualora ci trovassimo ad esempio in un endgame e fossimo magari focussati immaginate che in mezzo a una tempesta o con della nebbia o con del vento faremmo molta meno fatica a spostarci quindi si promettono anche di creare nuvole nuove riflessi e tanto altro che sicuramente garantiranno un'esperienza di gioco migliore e più realistica e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri è uscita l'ultima sfida che ci serviva per sbloccare aquaman vi ho fatto un video tutorial quindi potete andare a vederlo è semplicissimo dovevate andare in alto a sinistra nella mappa prendere il tridente e automaticamente oltre al piccone la skin si trasformava in aquaman con la skin di aquaman dovevate raggiungere poi la cascata che c'è alla fine del fiume di lago languido buttarvi sotto e appunto ottenere il nuovo stile perché non lo sapesse arriva invece questa immagine ufficiale interessantissima perché ci mostra innanzitutto un nuovo stile di pesce secco e oltretutto ci mostra un background che essa somiglia tanto ad atlantide per chi infatti in realtà non lo sapesse le sfide saranno disponibili per tutti mi spiego meglio la sfida del mulinello visto che i mulinelli sono disabilitati è stata data a tutti quindi potete completare aquaman insieme a lui arriva black manta con tanto di doppio piccone e come sapete avrete sicuramente visto il trailer introduttivo che appare alla riapertura di fortnite dove c'è black manta che avrà molto probabilmente una storia importante per quanto riguarda tutta la storia l'indedicata ad aquaman ad atlantide alla nuova location e appunto anche a black manta in questa immagine invece che è molto più interessante è stata cambiata la la colorazione i filtri sono stati modificati e notiamo proprio sullo sfondo come sarà la location di atlantide noi sappiamo che in game è chiamata the ruins quindi le rovine se andiamo a vedere a destra di questa immagine c'è una specie di piccolo castello e invece proprio sotto di me c'è un uno stabile molto molto più grande la cosa davvero interessante è che dietro c'è questo muro d'acqua quindi la domanda che ci facciamo è la location emergerà oppure rimarrà sommersa dalle acque e ci potremo accedere in qualche modo non lo sappiamo ragazzi ma le novità che stanno per arrivare sono davvero tantissime aquaman c'è atlantide sta per arrivare e sicuramente con il prossimo dislivello dell'acqua ne sapremo di più vi ricordo che dovrebbe essere il 18 luglio se non vado errato insomma ragazzi io vi ringrazio anche oggi per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao